qual è l'agenda di oggi per capire quali sono le applicazioni e le implicazioni processuali della della cosiddetta prova informatica è necessario avere delle coordinate di base su cosa vuol dire prova scientifica e su quali sono i rapporti fra scienza e processo perché questi temi non riguardano esclusivamente il gli aspetti appunto probatori legati ai reati informatici ma in generale tutti quei casi nei quali al giudice viene presentata la cosiddetta novel science cioè un ritrovato una scoperta una nuova teoria che dovrebbe fondare le basi del giudizio di responsabilità il tema si è formato in italia essenzialmente attorno alla prova informatica e da un po di tempo anche rispetto alla prova genetica e da ultimo si stanno manifestando si sta manifestando la tendenza a cercare di far entrare nel processo penale anche le neuroscienze come disciplina che sarebbe in grado di aiutare il giudice a decidere in particolare quest'ultimo discorso delle neuroscienze è estremamente pericoloso perché quello che fanno quello che si pretende di fare con le neuroscienze è sostanzialmente stabilire la responsabilità di un soggetto leggendogli il pensiero cioè rilevando l'attività elettrica del cervello e quindi associando alle zone legate alla menzogna piuttosto che alla verità la rilevazione di un dato oggettivo questa è la teoria che cercano di vendere e dunque la non necessità del sostanzialmente del processo o dell'avvocato quindi capire il tema del rapporto tra prova scientifica e processo è anche un elemento che servirà a prescindere dagli aspetti strettamente legati ai reati informatici. Detto questo passeremo all'analisi delle tecnicalità della raccolta della prova informatica e della loro della sua valutazione sia in termini difensivi e quindi durante le indagini preliminari sia dal punto di vista poi della definizione di una strategia dibattimentale e in ordine sparso poi ho raccolto una serie di casi e di questioni processuali in parte appunto come vi dicevo derivanti dall'esperienza e in parte raccolti analizzando la giurisprudenza e altre indicazioni che ho raccolto nel corso degli anni Qual è la funzione della prova scientifica? Voi sapete che una delle più grosse fictio iuris del nostro sistema è che il giudice sia peritus peritorum. La realtà ci dice che spessissimo a meno che il giudice non abbia per sue conoscenze personali una determinata dimestichezza con un tema particolarmente tecnico si appoggia al CTU. Sapete che c'è tutta la problematica tutta la giurisprudenza che ha analizzato il potere e dovere del giudice di discostarsi dalla consulenza tecnica quando lo ritenesse necessario ma la realtà dei fatti è che con una estrema frequenza c'è una delega al consulente tecnico della decisione sostanziale della materia. Il CTU da questo punto di vista opera a tutti gli effetti o dovrebbe operare come una sorta di mediatore culturale. Dovrebbe cioè mettersi in mezzo fra la conoscenza e la deliberazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il CTU non dovrebbe decidere se volete civilisticamente un po' il ruolo del 696 bis. Il CTU non dovrebbe decidere ma dovrebbe individuare quegli elementi di conoscenza e farlo in modo neutro evidentemente tali per i quali le parti, non soltanto il giudice, diventano in grado di poter valutare in modo più concreto la propria strategia. Se tutto questo discorso in un ambito civilistico può avere una sua dignità, nell'ambito del procedimento e del processo penale la logica come sapete è totalmente diversa. Io parlo essenzialmente nella prospettiva del difensore dell'imputato, non del difensore di parte civile. Nella prospettiva del difensore dell'imputato come sapete l'approccio è considerare il processo penale come un groviera, cioè una serie di fatti pieni di buchi che mentre il pubblico ministero ha l'interesse a tappare per creare una narrativa coerente, l'avvocato ha nella peggiore delle ipotesi l'interesse a lasciare lì. Più buchi ci sono più è carente la narrativa, più quantomeno sotto il profilo del secondo comma dell'articolo 530 si può articolare una difesa. Nel corso del tempo però, come saprete, visto che praticate le aule penali, la realtà è che ai difensori viene sempre più richiesta una difesa attiva e quindi utilizzare un approccio basato semplicemente sulla carenza delle indagini del pubblico ministero diventa sempre più complicato. Perché il retropensiero, il non detto, ma che poi trova spesso conferma nelle aule è che o l'imputato si difende attivamente o sostanzialmente è colpevole. O quantomeno la difesa basata sul, scusate continuano ad arrivare i vostri colleghi, o quantomeno la difesa basata appunto sulla inattività o sull'incompletezza dell'attività del pubblico ministero funziona sempre meno. Ce la facciamo? Siamo a 53. Quindi quali sono i dati di esperienza? Che spesso il giudice è molto più incline verso il pubblico ministero. Noi siamo abituati a vedere la giustizia come vendata. Se andate alla Corte Suprema di Tokyo, è capitato durante un soggiorno di studio, vedrete che lì la giustizia è senza benda. Quando ho chiesto al collega che mi ospitava come mai, quale fosse il motivo di questa differenza sostanziale rispetto alla visione tradizionale della giustizia, la sua risposta è stata beh, da noi la giustizia ci deve vedere molto bene. È un approccio culturale totalmente differente, che si sposa, lo dico fra parentesi, che si sposa con una concezione della responsabilità penale che è a 180 gradi rispetto alla nostra, perché molto rapidamente quello che succede in Giappone è che la persona viene arrestata, viene messa per 20 giorni, fino a 20 giorni in custodia cautelare, senza possibilità di parlare con nessuno, e quando confessa va al processo. Infatti in Giappone la percentuale delle condanne è qualcosa che si avvicina al 99.90 è qualcosa, perché nella sostanza il processo diventa sostanzialmente definire e quantificare la pena. E addirittura, dicevano dei colleghi, che difendersi è malvisto dalla Corte, che aggrava la pena proprio per avere appesantito il ruolo della giurisdizione. È anche complicato trovare consulenti, perché verso la difesa, insomma, c'è una sorta di pregiudizio culturale. Potrebbero sembrare informazioni, potrebbe, vi potrebbe sembrare che questo sistema sia lontano anni luce dal nostro, però l'esperienza dimostra che è sempre più spesso, in modo lento ma costante, stiamo andando verso questa forma di valutazione della difesa penale, per cui difendere comincia essere quasi un fastidio. Perché vi dico questo? Perché nel caso del penale tecnico e non soltanto del penale informatico, ma in tutti quei casi nei quali le valutazioni e le componenti extragiuridiche hanno una importanza fondamentale ai fini della strutturazione della difesa, è proprio la capacità di padroneggiare questi elementi extraprocessuali, extragiuridici, a fare la differenza. Nel caso della scienza, in generale, il giudice non è particolarmente, non è spesso, ripeto, a meno che non ci siano casi eccezionali, ma il giudice non è in grado di capire le complessità della scienza e quindi rimane privo di strumenti di fronte a eventi che non riesce a spiegare o che si presentano come controintuitivi dal punto di vista della percezione. C'è però, infine, un dato di esperienza che supera tutti quelli di cui abbiamo parlato, e cioè che contro la forza la ragione non vale. Come avvocati in realtà l'unica arma che abbiamo è appunto quella della ragione e di fronte abbiamo un potere che quando non riesce a superare la razionalità di una tesi difensiva a volte forza la mano con dei provvedimenti francamente discutibili, come vedremo nel corso di questo incontro.